Sono Giuliano Micheletti, viticoltore biologico dal 1997 a Trento. La nostra azienda è composta da due corpi principali, uno a Trento e uno in Valle dei Laghi, dove coltiviamo Chardonnay, Riesling Renano e Merlot. Produciamo cinque vini, tre metodi classici, Limen 283 da Chardonnay e de Vigna Vecchia, prodotto su suoli calcari profondi di risine glaciale, ricchissimi di magnesio nel comune Catastrale di Trento e quattro vini con le uve prodotte in Valle dei Laghi, rispettivamente Limen Rosso da Merlot, Limen Bianco da Riesling Renano, Fuorischema Bianco da Riesling Renano e Fuorischema Rosè da Uve Rosse di Alta Collina. Gli ultimi due metodi classici come Limen 283 sono dei 24 mesi prodotti schiacciando uva intera e frazionando i mosti, lavorando in acciaio e appunto fanno un affinamento sui lieviti di 24 mesi tutti e tre.